La richiesta indecente della regia alla concorrente, Striscia inchioda il GF Durante il daytime, una concorrente si confida con gli altri riguardo la richiesta incredibile della regia. Ancora buffera intorno al Grande Fratello 2018 condotto da Barbara Durso. Il Tg Satirico striscia la notizia ha trasmesso, in un suo servizio, quella che sembra essere una richiesta indecente ad una concorrente da parte della produzione del reality. Lucia Orlando racconta, ad alcuni dei concorrenti, di essere stata spronata direttamente dal Grande Fratello a fare lamore con Filippo dentro la casa per aumentare laudiance del programma. La risposta di Lucia Orlando e le conseguenze. A quanto pare, lei ha risposto con un secco no, litigando con qualcuno che era al di là del muro e rimanendo molto turbata dalla situazione. La storia tra la commessa e Filippo Contri è nata proprio poche settimane fa nel reality di Canale 5 ed è agli inizi. Una richiesta del genere, oltre che essere fuori luogo e prematura, modificherebbe gli equilibri allinterno della casa. Pilotare le mosse dei concorrenti va ad annullare lessenza stessa di un programma che nasce proprio per osservare le dinamiche sociali che si creano tra persone sconosciute in un ambiente comune. La regia corre ai ripari. Mentre la ragazza si stava confidando, stranamente la regia ha abbassato il volume dei microfoni ed ha cambiato immediatamente inquadratura. Striscia la notizia ed ha sempre attenta a tutte quelle situazioni ambigue che avvengono nei programmi televisivi. Siamo certi che il programma di Antonio Ricci abbia ancora delle frecce nel suo arco riguardo a questepisodio e, forse già questa sera, fornirà altre prove schiaccianti sullaccaduto mettendo in seria difficoltà Barbara D'Urso e la produzione. Questo è solo uno degli argomenti che dovrebbero essere trattati questa sera nella puntata del Grande Fratello. Molte infatti sono le questioni irrisolte. A parte l'uscita di uno dei quattro in nomination, oggi dovrebbe entrare un nuovo concorrente che è stato presentato nel corso del programma Pomeriggio 5, Rodrigo Alves. Gli animi, all'interno della casa, sono sempre molto accesi e, anche questa settimana, i telespettatori hanno assistito a delle scene poco edificanti. Una fra tutte, la presa in giro collettiva che i ragazzi hanno fatto a discapito di Aida Nizar, colpevole di aver portato una bottiglietta con all'interno del pane a tavola. Il gruppo l'ha umiliata pesantemente costringendola a prendere la decisione di non mangiare più con loro. Oltre ai soliti detrattori, si sono aggiunti Lucia Bramieri e Alberto Mezzetti. Barbara D'Urso questa sera avrà come al solito il suo bel da fare per cercare di recuperare un programma che sta letteralmente naufragando. Barbara D'Urso